Marco Aurelio A se stesso Pensieri Libro primo Da mio nonno vero E carattere buono E non irascibile Dalla fama e dal ricordo Che si conservano di mio padre Il comportamento riservato E virile Da mia madre La religiosità La generosità e la ripugnanza Non solo a compiere il male Ma anche all'idea di compierlo Ancora Il tenore di vita semplice e distante Dalla condotta dei ricchi Dal mio bisnonno Non aver frequentato le scuole pubbliche Aver avuto buoni maestri Tra le mura di casa E aver compreso che per questo genere di cose Non si deve risparmiare Dal mio precettore Non essere stato sostenitore dei verdi Né degli azzurri Né dei gladiatori armati di Parma O di quelli armati di Scutum La resistenza alle fatiche E la sobrietà nelle esigenze Contare sulle proprie forze E non immischiarsi Non prestare ascolto Alla calunnia Da diogeneto L'indifferenza per ciò che è vacuo Non prestar fede alle fole dei ciarlatani E imbroglioni su incantesimi Cacciate di demoni e simili Non perdersi a colpire le quaglie sulla testa O dietro ad inezze del genere Tollerare la franchezza di linguaggio Aver acquisito familiarità con la filosofia Aver ascoltato prima Bacchio Poi Tandaside e Marciano Aver scritto dialoghi con vero ragazzo Aver desiderato un lettuccio con una pelle E tutte le altre cose di questo genere Connesse con l'educazione greca Da rustico Aver capito la necessità di correggere E curare il carattere Non aver deviato verso ambizioni da sofista Non dedicarsi a scrivere di questioni teoriche O a recitare discorsetti a monitori Ovvero a impressionare la gente Esibendo il modello dell'asceta o del benefattore Essermi allontanato dalla retorica Dalla poesia e dal brillante conversare Non girare per casa in toga E non fare cose analoghe Scrivere le lettere in modo semplice Come quella che egli stesso scrisse a mia madre da sinuessa La disponibilità a riavvicinarsi e riconciliarsi con chi si è irritato O ha mancato verso di noi Non appena decide di tornare sui suoi passi Leggere con estrema attenzione E non accontentarsi Di afferrare il senso generale E non trovarsi subito d'accordo con chi chiacchiera L'incontro con i commentari di Epiteto Che mi fornì dalla sua biblioteca Da Apollonio L'atteggiamento libera senza incertezze Nel non concedere nulla alla sorte E nel non guardare Neppure per poco A nient'altro che alla ragione Restare sempre uguali Nei dolori acuti Nella perdita di un figlio Nelle lunghe malattie Aver visto con chiarezza In un modello vivo Che la stessa persona può essere molto energica e pacata Non irritarsi Mentre si dà una spiegazione Aver visto un uomo che evidentemente considerava Come l'ultima delle sue qualità L'esperienza e l'abilità nell'insegnare principi teorici Aver imparato come si devono ricevere dagli amici I cosiddetti favori Senza sentirsi inferiori Per averli ricevuti E senza respingerli Peccando di tatto Da Sesto La benevolenza Il modello di una famiglia patriarcale Il concetto di vita secondo natura La dignità autentica La capacità Di cogliere in cosa prendersi cura degli amici La pazienza verso chi privo di istruzione Crede anche a ciò che non ha esaminato in termini scientifici La capacità di trovarsi bene con tutti Cosicché il suo conversare Era più accattivante di ogni adulazione Eppure In quel preciso momento Agli occhi dei suoi stessi interlocutori E gli restava degno del più alto rispetto L'intelligenza è il metodo Nell'individuare e disporre i principi indispensabili per la vita Non aver mai dato segno esterno di ira o di altra passione Essendo invece nello stesso tempo Assolutamente impassibile ed affettuosissimo La disposizione a elogiare E senza troppo rumore Un'ampia cultura Senza spazio per l'esibizione La grammatico Alessandro Non censurare e non redarguire in maniera offensiva Chi parlando incappa in un barbarismo o in un solecismo Ma con il giusto tatto Limitarsi a pronunciare l'espressione corretta Come se si stesse rispondendo O manifestando la propria approvazione O analizzando la sostanza della questione Non il termine usato Oppure attraverso un'altra forma altrettanto garbata Di rilievo La frontone Aver valutato il grado di invidia Tortuosità e ipocrisia Del potere tirannico E come in generale Costoro che da noi si chiamano Patrizi Siano in certo modo Più insensibili all'affetto Da Alessandro il Platonico Parlando o scrivendo una lettera a qualcuno Non dire spesso e senza una ragione stringente Non ho tempo E non declinare continuamente In questo modo I nostri doveri nelle relazioni Con chi ci vive accanto Col pretesto degli impegni che ci assediano Da Catulo Non trascurare un amico Che ci accusa di qualcosa Anche se capita che ci accusi senza ragione Ma cercare di riportarlo al suo rapporto consueto con noi Parlar bene di cuore Dei propri maestri Come insegna quello che si racconta di Domizio E a Tenodoto L'amore autentico per i figli Da Severo L'amore per la famiglia L'amore per la verità L'amore per la giustizia Aver conosciuto grazie a lui Tra Sea Elvidio Catone Dione Bruto Ed essermi formato l'idea Di uno stato con leggi uguali per tutti Governato secondo i principi dell'eguaglianza politica E di uguale diritto di parola E l'idea Di una monarchia che al di sopra di ogni cosa Rispetti la libertà dei sudditi Ancora da lui La giusta misura E la costanza Nell'onorare la filosofia Fare del bene Ed elargire con generosità L'ottimismo e la fiducia nell'affetto dagli amici La schiettezza Verso chi meritasse la sua riprovazione Il fatto che i suoi amici Non dovevano ricorrere a congettura Per capire cosa volesse o non volesse Al contrario Il suo intendimento Era chiaro Da massimo Governare se stessi E non lasciarsi confondere in nulla Il buon umore in ogni circostanza E in particolare nelle malattie Il carattere ben temperato Dolcezza e dignità La capacità di adempiere i propri impegni Senza cedere alla sofferenza Il fatto che quando diceva qualcosa Tutti avevano fiducia Che quello fosse davvero il suo pensiero E quando faceva qualcosa Che agisse senza cattive intenzioni La capacità di non farsi sorprendere o sbalordire E di non cedere In nessuna circostanza Alla fretta o all'indugio O alla disperazione Oppure alla depressione o al sarcasmo E ancora Alla collere al sospetto La propensione a fare del bene Al perdono e alla sincerità L'impressione che offriva L'amore per il lavoro Seguire nei suoi viaggi Anzi Il farsi sempre ritrovare amico Come prima Da chi per qualche necessità Era rimasto a casa Lo scrupolo e l'insistenza Durante le riunioni di consiglio Nel cercare soluzioni E non Come si dice Non ha concluso il suo esame Accontentandosi delle prime impressioni Il modo di conservare gli amici Senza mai provare fastidio per loro E neppure un folle attaccamento L'autosufficienza in tutto E la serenità La lungimirante preveggenza E il provvedere ad ogni minima cosa Senza atteggiamenti teatrali Il fatto che sotto di lui Furono ridotte le acclamazioni E ogni forma di adulazione Verso il potere L'attenzione continua Alle necessità dell'impero La gestione oculata Della spesa pubblica E la tolleranza Verso le critiche abituali In simili casi Non essere superstizioso Per quel che riguarda gli dèi Né demagogo Per quel che riguarda gli uomini In cerca di consenso O di favore tra la massa Ma sobrio in ogni circostanza E saldo Mai volgare o smanioso di novità Saper far uso di ciò che serve A confortare la vita E che la sorte fornisce in abbondanza Senza boria E insieme senza accampare pretesti In modo, se c'è Da godermi senza artifici E da non sentirne il bisogno Se manca Il fatto che nessuno Lo avrebbe potuto definire Un sofista o un buffone O un pedante Ma un uomo maturo Completo Immune alle adulazioni Incapace di provvedere Agli interessi suoi altrui Inoltre L'onore è riservato Ai cultori autentici Della filosofia Senza tuttavia Offendere gli altri E senza neppure però Farsi forviare Da loro Ancora L'affabilità e la gentilezza Ma senza esagerazione La cura Che aveva della sua persona Nei giusti limiti E non come Chi è troppo attaccato Al proprio corpo Senza indulgere Al lezioso E neppure cadere Nella sciatteria Cosicché Grazie alla propria Personale attenzione Riduceva al minimo La necessità Di ricorrere All'arte medica O ai farmaci E con l'esclusione Di ogni impiastro Soprattutto Il suo saper Cedere il passo Senza invidia A chi possedeva Una certa abilità Per esempio Nell'eloquenza O nello studio Delle leggi O dei costumi O di altre materie E l'impegno Con il quale Aiutava ciascuno A diventare famoso Nel settore In cui aveva Particolare talento E seguendo sempre Nella sua azione Le tradizioni a vite Non cercava Di mettere in luce Neppure questa linea Di condotta Ancora La tendenza A non trasferirsi O spostarsi Avanti e indietro Ma a restare a lungo Negli stessi luoghi E nelle stesse attività La capacità Dopo i suoi Violenti attacchi Di cefalea E tornare subito Fresco E pieno di energie Al lavoro consueto Il suo non avere Molti segreti Ma pochissimi Rarissimi E solo Su questioni Di stato Il buon senso E la misura Nell'allestimento Di spettacoli Nell'edificazione Di opere pubbliche Nelle Elargizioni Al popolo E simili Da uomo Che tiene d'occhio Quello che si deve fare Non la gloria Che può seguire Le sue azioni Non prendeva bagni In ore inconsuete Non aveva La fissazione Di edificare Non pensava Sempre a cibi A ricami Ai colori Delle vesti Alla bellezza Degli schiavi La veste Che veniva Dall'orio Dall'abitazione Di campagna Di laggiù E la maggior parte Di quel che accadde All'anuvio Come si comportò Con desettore Che lo implorava A tuscolo E a ogni analoga Occasione Non ebbe Alcun atteggiamento Rude Inesorabile Violento O tale Che qualcuno Potesse dire Fino al sudore Ma ogni cosa Veniva da lui Valutata analiticamente Come In un momento Di riposo Senza turbamenti Con ordine Con fermezza Nell'armonia Dei fattori interni E sarebbe adatto Quanto si tramanda Di Socrate E cioè Che sapeva Sia godere Sia rinunciare A quelle cose Di fronte alle quali I più Si mostrano deboli Al momento Di astinersene E smodati Al momento Di gustarne L'essere forte E resistere Con tenacia E in entrambi i casi Mantenere la sobrietà Come caratteristiche Di un uomo Che possieda Un animo Dritto e invincibile Come ad esempio Dimostrò Nella malattia Di Massimo Degli dei L'aver avuto Buoni nonni Buoni genitori Una buona sorella Buoni maestri Buoni familiari Parenti Amici Quasi tutti Il fatto che non sono arrivato a commettere una colpa verso nessuno di essi Pur avendo una disposizione tale per cui Se ve ne fosse stata l'occasione Me ne sarei macchiato Ed è un beneficio degli dei Che non si sia verificato nessun concorso di avvenimenti Che potesse rivelarmi per quello che sono Non essere cresciuto troppo a lungo presso la concubina di mio nonno Aver conservato intatto il mio vigore E non aver avuto rapporti sessuali prima del tempo Anzi Aver atteso ancora Dopo che era giunto il momento Essere stato sottoposto a un sovrano E a un padre che avrebbe eliminato ogni mia alterigia E mi avrebbe condotto a pensare che a corte Si può vivere senza bisogno di guardie del corpo o di vesti pregiate Di candelabri o statue di questo genere E di un consimile sfarzo E che anzi Ci si può limitare a un tenore di vita assai vicino a quello di un privato Senza perciò risultare troppo modesti o trasandati Di fronte alle inconvenze che il sovrano deve affrontare nel pubblico interesse Aver avuto un fratello quale il mio Capace Con il suo carattere Di spronarmi ad aver cura di me stesso E insieme di gratificarmi Con il suo rispetto e il suo affetto Non aver avuto figli deficienti o deformi Non aver fatto troppi progressi nella retorica Nella poesia e nelle altre discipline In cui forse sarei rimasto irretito Se mi fossi accorto di procedere con facilità Aver preveduto ai miei precettori Attribuendo loro la posizione alla quale mi parevano ambire E non aver rinviato la cosa In attesa, considerata la loro giovane età Di farlo in seguito Aver conosciuto Apollonio Rustico Massimo Essermi spesso e con chiarezza Rappresentato quale sia la vita secondo natura Cosicché, per quanto sta agli dèi E alle comunicazioni Agli aiuti Alle ispirazioni che da essi provengono Nulla ormai mi impedisce di vivere secondo natura Che a questo obiettivo manchi ancora qualcosa Semmai è colpa mia Perché non osservo i suggerimenti E diciamo quasi Gli insegnamenti che vengono dagli dèi E il fatto che il mio corpo abbia così a lungo resistito In una simile vita Non aver toccato Benedetta né Deodoto E anche più tardi Caduto in passioni amorose Esserne guarito Essermi tante volte adirato con Rustico Ma senza mai far nulla di cui poi pentirmi Il fatto che mia madre Pur destinata a morire giovane Abbia ugualmente vissuto con me I suoi ultimi anni Il fatto che ogni qual volta Ho voluto soccorrere una persona povera O che aveva altre necessità Non mi sono mai sentito rispondere Non ho abbastanza denaro per farlo E non essermi trovato in un analogo stato di bisogno Ridotto a dover ottenere da altri Il fatto che mia moglie fosse così Tanto docile Tanto affettuosa E semplice Aver avuto per i miei figli Tanti precettori adatti E soccorso ricevuto attraverso i sogni In particolare contro gli sbocchi di sangue E le vertigini E quando deciderai Accostarmi alla filosofia Non essere incappato in un sofista E non essere rimasto seduto a leggere gli autori Ad analizzare il sillogismo Ad occuparmi di fenomeni celesti Perché tutte queste cose Esigono l'aiuto degli dei E il favore della sorte Scritto nel territorio dei Quadi Presso il Gran Libro primo Paragonalisterio dei Quadi Laszcc Ranchos Potremmallen Cosa